Il treno Italo Alta Velocità 81-11, di nuovo trasporto viaggiatori, proveniente da Torino-Portanuova, è diretto a Reggio Calabria Centrale, delle ore 11.55, è in arrivo al binario 22. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Salerno, Agropoli-Castellabate, Vallo della Lucania, Sapri, Paola, La Mezzia-Terme Centrale, Vibo-Valenzia-Pizzo, Rosarno, Villa San Giovanni. L'ambiente smart è in coda al treno. Il treno Alta Velocità Frecciarossa, 93-02, di Trenitalia, delle ore 5.23, per Torino-Portanuova, è in partenza dal binario 17. Ferma a Cassino, Frosinone, Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze-Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Reggio Emilia-Vimediopadana, Milano-Rogoredo, Milano Centrale, Roffiera-Milano. I livelli Executive Business sono in testa al treno. Il treno Alta Velocità Frecciargento, 83-83, di Trenitalia, proveniente da Firenze-Santa Maria Novella, è diretto a Lecce, delle ore 9.15, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi. La prima classe è in coda al treno. Il treno Suburbano S6-10-632, di Trenord, proveniente da Pioltello Limito, è diretto a Novara, delle ore 12.25, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Trecate. Il treno regionale Veloce, 20.09, di Trenitalia, proveniente da Torino-Portanuova, è diretto a Milano Centrale, delle ore 10.33, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno Intercity Night, 15.75, di Trenitalia, proveniente da Torino-Portanuova, è diretto a Reggio Calabria Centrale, delle ore 14.43, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Milano Porta Garibaldi, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna Centrale, Prato Centrale, Firenze Camponarte, Roma Tiburtina, Salerno, Sapri, Scalea Santa Domenica, Paola, Amantea, La Mezzia Terme Centrale, Vibo Marina, Tropea, Ricadi Capo Vaticano, Nicotera, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Reggio di Calabria Lido. Carrozze dalla 1 alla 3, testa al treno, dalla 4 alla 5, centro treno, dalla 6 alla 8, coda treno. Su questo treno è disponibile il servizio letto e cucette. Il treno regionale 2201, di Trenitalia, proveniente da Bergamo, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 7.04, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Grazie! Grazie!